via ma ora posso e non vuoi che a te che a te cosa sa no vuoi ricerche si stanno ah e non è che si stanno bene allora vieni da a te allora vieni da a te vieni da vieni da ciò che cosa stavo vieni da salvo non non la i i i i i